La vita ti pone domande quando vivi con il diabete. La nostra nuova app WeCare ti aiuta a trovare le risposte. Con i servizi di assistenza 24 su 7, la panoramica dati, le testimonianze di persone con diabete e altro ancora. Affrontiamo insieme le tue sfide quotidiane. Scarica l'app WeCare. Scarica l'app WeCare.